Siamo con Elia Legati, di fatto nel giorno della presentazione come nuovo acquisto della Feralpi Salò ti chiedo subito prime sensazioni con questa nuova maglia che hai sfoggiato prima e ovviamente davanti alle nostre telecamere Innanzitutto un saluto a tutti sono molto entusiasta di aver scelto questa sfida questo progetto, questa società ambiziosa e giovane perché comunque quando leggi 2009 nello stemma capisci che è una società giovane, nuova e con grande ambizione quindi sono onorato e contento di farne parte, di iniziare questo cammino questo cammino che hanno già cominciato i miei compagni che ho conosciuto da qualche giorno è un cammino che sarà difficile perché comunque è un campionato difficile è un campionato dove non ti puoi permettere di calire attenzione non ti puoi permettere di, come ho detto prima, di pensare di essere più bravo degli altri perché sarebbe un grande errore e forse il re di tutti gli errori quindi non ce lo possiamo permettere dobbiamo affrontare 15 finali 15 finali che ci devono portare al raggiungimento di un obiettivo che è quello di fare maggiori punti possibili da quella fine e poi vedere chi ne farà altre tanti e quanti punti avranno fatto gli altri e niente, parto con grande entusiasmo come ho detto la squadra secondo me è una squadra che ha valori l'ha dimostrato e quindi speriamo di iniziare al meglio già da sabato Alla Feral Pissalò ritrovi Mister Serena ma anche altri compagni Vito Francesco col quale avevi giocato nella primavera del Milan Simone Guerra, anche lo stesso Andrea Ferretti che cosa ti hanno detto in questi primi giorni alla Feral Pissalò? Sì, con Ferretti giocavamo da bambini, da ragazzini e invece con Guerra ci ho giocato un anno a Venezia è stato un anno impegnativo viste le vicissitudini societarie che ci hanno accompagnato e niente, mi hanno accolto nei migliori dei modi ma loro come altri, nel senso che con Emerson abbiamo giocato contro mille partite quindi ci conosciamo da tanti anni quindi vedo un gruppo sano la prima impressione sono quelle di un gruppo sano, un gruppo unito quindi questo è fondamentale per pensare, provare a pensare di fare qualcosa di importante questa è la base quindi niente, sono contento, ribadisco e quindi andiamo avanti così grazie a tutti grazie a tutti